Tante altre cose potevano essere fatte, ma sono arrivato fin qui e qui mi fermo. È in quelli che TNUNC che si riassumono tre anni di mandato di Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016-2017 del centro Italia, portato avanti da febbraio 2020 a gennaio 2023. Un'attività polifonica, come l'ha definita lo stesso Legnini, nella conferenza stampa di fine mandato, che ha riassunto dati e riepilogato obiettivi raggiunti e altri ancora da conseguire, per proseguire il cammino complesso della ricostruzione, una missione di servizio in risposta alle sofferenze di chi è stato colpito dal dramma del terremoto, come dichiarato dallo stesso Legnini. Trasparenza e consultabilità pubblica dei dati sono stati binari su cui si è mossa la ricostruzione, portata avanti con un grande lavoro di squadra e la concertazione di tutti gli attori chiamati a collaborare con competenze, meriti e professionalità per il raggiungimento di risultati concreti, che possono sintetizzarsi nei seguenti numeri. 28.000 richieste di contributi dai privati per 10 miliardi di euro, 15.736 decreti di contributo concessi per 5,3 miliardi di euro, 2,5 miliardi di importi liquidati alle imprese secutrici, 8.318 cantieri privati conclusi per circa 20.000 singole unità immobiliari, 7.333 cantieri privati attualmente aperti, 2.500 interventi pubblici finanziati con 3,6 miliardi, tra cui 450 scuole per 1,4 miliardi, 1.251 interventi su chiese ed edifici di culto finanziati per 800 milioni e 935 milioni di euro di somme erogate per le opere pubbliche a fine 2022. Norme semplificate e tempi dimezzati sono da numerare tra gli obiettivi raggiunti dalla struttura commissariale, anche grazie all'ordinanza 100 e al testo unico, in un periodo storico in cui la ricostruzione ha dovuto tener conto di quattro grandi variabili, pandemia, caro energia, caro prezzi e bonus del 110%, che ha rallentato i processi distraendo energie e forza lavoro. Del resto, il drastico abbattimento dei tempi nei procedimenti di ricostruzione, passati dai 583 giorni del 2019 ai 130 giorni del 2022, delineano chiaramente quanto conseguito. Al senatore Guido Castelli, che raccoglie il testimone del lavoro svolto fino ad oggi dal commissario, Legnini augura di proseguire sul percorso svolto a servizio delle comunità colpite dal terremoto, continuando a perseguire la necessità di tutela e sicurezza dei territori. Salutato con stima e apprezzamento da sindaci, governatori e rappresentanti di istituzioni e associazioni che hanno preso parte alla conferenza di fine mandato e parlato di una parabola ascendente dei livelli di concretezza della ricostruzione, Legnini ha infine salutato ringraziando e restando a disposizione del nuovo commissario Castelli, che ora dovrà proseguire sulla strada già avviata.